Musica Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino Questa sera ci occupiamo dei comuni di Fossombrone insieme al suo sindaco Massimo Berloni Bentornato sindaco Buonasera, buonasera a voi Vi ricordo come sempre che potete intervenire in diretta Tra poco in sovrimpressione, eccoli qua, trovate i numeri di riferimento 0721 86 14 33 Per parlare direttamente con il sindaco oppure potete inviarci un messaggio su whatsapp al numero di cellulare Dunque sindaco, io partirei dalle immagini che abbiamo girato sabato scorso nell'area verde dell'ospedale Dove avete ricordato le quattro persone che hanno perso la vita nel tragico incidente di un mese fa ormai Eccoli qua le immagini, com'è stato questo momento di commemorazione? Ma è stato come non potevo non essere un carico di emozioni, di ricordi e di tristezza Vediamo diverse istituzioni ma anche familiari delle vittime Sì, c'erano presenti tutti i familiari, compreso anche il familiare di Socol Un dottore che ha dato tanto al territorio di origine albanese Il fatto che siamo venuti a trovare la sua signora che ha appena avuto un figlio di appena 4 mesi Ha voluto essere presente è una cosa particolarmente toccante che mi ha fatto molto piacere Gli olivi invece? Prego Gli olivi? Gli olivi sono stati piattati, 4 olivi ovviamente come gesto simbolico, come ricordo di ogni vittima Abbiamo preso parte un po' tutti i sindaci insieme con i familiari della vittima In quel caso che apparteneva a ogni olivo Abbiamo fatto questo gesto Questo gesto che è un qualcosa che deve ricordare a tutti nel tempo Quanto queste 4 persone hanno fatto per la nostra comunità E anche nel nostro telegiornale delle 20 e 30 poi vi mostreremo le interviste che abbiamo fatto in occasione di questa ricorrenza Rimaniamo sul tema sanitario Ricordiamo ai nostri telespettatori sindaco Quali sono gli impegni che la regione si è presa, ha inserito nel piano socio-sanitario per il comune di Fossombrone E poi le chiedo anche se ha avuto di recente novità o ulteriori contatti con la regione stessa Sì no, gli impegni sono quelli che sono stati diversamente pubblicati È un insieme di servizi che devono essere attivati nell'ospedale di Fossombrone Ovviamente ribadendo il fatto che non sarà più un ospedale per problemi acuti Si ha un ospedale vero e proprio Sarà però un ospedale che in qualche maniera dovrà dare dei servizi che oggi i cittadini hanno bisogno Dei servizi che i cittadini meritano Che siano realmente di un uito immediato a tutta la comunità Questo qua è stato, ho avuto un incontro pochi giorni fa Sia con l'assessore che con il direttore sanitario Che hanno ribadito la volontà di iniziare quanto prima questi tipi di servizi E posso assicurare ai miei cittadini che stando a quello che mi hanno detto poco fa Addirittura qualche giorno fa hanno ribadito Che a presto verranno pubblicati e verranno attivati entro breve Ma sicuramente pianificati tutti questi entro due o tre settimane Si tratta poi di interventi anche legati al PNRR e quindi anche la regione stessa delle scadenze Per cui si spera che nel breve tempo si possano risolvere diverse problematiche sanitarie nel vostro territorio Sì assolutamente, sono problematiche per me estremamente importanti quelle di tutti i giorni Quelle che in realtà ogni cittadino che ha bisogno di risposte immediate sulla sanità Abbia anche un servizio di assistenza e di confronto con quelle che sono le problematiche di tutti i giorni Quindi sono totalmente fiducioso che queste cose verranno attivate nel giro di poco tempo Dall'ente regionale passiamo a quello provinciale con la quale è stato inaugurato il ponte sulla Mondaviese Dovremmo avere anche delle immagini, quelle qua, quelle del taglio del nastro L'intervento che era atteso da tempo in una zona comunque molto trafficata E che vi permette di collegarvi anche con i paesi vicini Sì, questo qui è un tratto di strada che è estremamente importante Che collega con tutta una serie di frazioni E peraltro anche una frazione collegata importante come Ghigardino, come Isola di Fano Anche Santipolito, Pergola Ma anche queste sono frazioni direttamente dal comune Oltre appunto a tutta una serie di comuni limitrofi dell'entroterra Che sono importanti per la comunicazione giornaliera Le chiedono, sono previsti interventi di messa in sicurezza sul ponte ad arco unico sul Metauro? Che è il simbolo di Fossombrone Sì, bellissimo simbolo Un bellissimo ponte Sicurezza momentaneamente non sono previste Se non quella di un controllo Che va fatto Quindi neanche di ripulitura No, ripulitura sì, io pensavo lavori strutturali Sì, quindi adesso chiedono messa in sicurezza Quindi strutturali Sì Quindi al momento non sono previsti Andiamo avanti invece Per parlare dell'ex asilo di Viale Gramsci Dove sorgerà un centro Di dopo di noi Un servizio sicuramente importante Soprattutto dedicato alle persone Che hanno bisogno di un'assistenza familiare Qual è il progetto? Ma è un progetto di una struttura Peraltro che si rilaccia A un risorso del PNRR Che abbiamo fatto Sicuramente Ripristinando quello che è uno stabile Oggi che non viene utilizzato A servizio Mettendolo al servizio di persone Che hanno bisogno ovviamente Di quello che è una serie di circostanze Che tendono a proteggere persone con disabilità Con l'intento che sia anche Un modo per tranquillizzare i genitori Che hanno comunque Sempre il fardello di sapere Cosa succederà dopo loro E noi vorremmo essere Con questa struttura Dare alcune risposte importanti Proprio per questa forte angoscia Che i genitori hanno Nei confronti dei propri figli Che portano Che portano Dei problemi Che hanno dei problemi E quindi cercare di Di dare questo futuro anche a loro Quindi è una misura che tengo Potrà diventare anche un punto di riferimento Per il territorio Tant'è che c'è una Assolutamente sì Convenzione con Sant'Ippolito Esattamente No, ma è di tutto Di tutto l'ambito sociale Che fa Centro Fossombrone E a servizio di tutto l'ambito sociale È una misura che abbiamo Come dicevo Vinto nel PNRR Ed è stata fatta anche Se mi permettete Una cosa importante Con il Comune Limitrofo Che è Sant'Ippolito Di unire le nostre forze Per fare un centro Il più possibile operativo Il più possibile concreto Senza disperdere In due centri diversi Visto che comunque È un qualcosa Che è a servizio Di tutto il territorio Quindi ottimizzare le risorse Per fare il meglio Che sia possibile In una struttura unica Concentrando Non solo le risorse Ma anche i servizi Non cercando di disperderli Solo per Avere una struttura Da una parte E una struttura dall'altra È anche un segno Di grande visione Che abbiamo condiviso E do i meriti Al sindaco di Sant'Ippolito Che ha condiviso E contribuito A unire questa forza Ecco dunque Questo era un ex asilo Per quanto riguarda le scuole In quali strutture siete intervenuti In quali pensate di intervenire? Beh le scuole È un tema particolarmente a me vicino Dico sempre che Non sarò tranquillo Finché tutti i nostri Tutti i nostri figli Non siano dentro Delle strutture Che siano consono Al valore Che rappresentano Abbiamo iniziato Da alcune scuole Di periferia Partendo da Quest'anno Sono ritornate attive Sia la scuola Il presso scolastico Di Calmazzo Con un importo Ovviamente tutti finalizzati A una ristrutturazione sismica Oltre che ottimizzare Quelli che sono i valori energetici E uno a Anche Isola di Fano? E uno a Isola di Fano Sì un intervento molto più corposo Di circa un milione e centomila euro Che abbiamo Anche quello Riattivato E ripristinato Come è giusto che sia Comunque due ambienti sani Che intanto Mettono Al sicuro E ci rendono tranquilli Su una Su una parte La seconda Ovviamente inizieranno breve Nel Nel plesso scolastico Delle scuole elementari Oggi Di Di Fossombrone Di capoluogo E un occhio Guardiamo Al futuro Con molto Con molto Ottimismo Quelle che possono essere Anche una recuperazione Delle scuole medie Cercando di dare Anche qui Un senso Logico E fare un polo Scolastico Che sia Ripeto Degno E sicuro Dei nostri Dei nostri ragazzi Le chiedono Saranno mai rimessi San Pietrini Su Via Roma Santa Lucia Certo che sì Siamo obbligati a farlo San Pietrini E' l'ultimo lavoro Da mettere Perché ovviamente Sotto va fatto Tutto un lavoro Di ripristino Di sottoservizi Molto importante Che riguarda noi Ma riguarda anche La nostra Azienda Di servizi Che riguarda Tutte le tubazioni Tutti i servizi primari Che oggi Bisogna mettere mano Urgentemente sotto Per poi dopo Ristendere i San Pietrini Siamo obbligati a farli Certo che sì Ovvio che Siamo partiti Da un progetto Abbiamo finanziato Il progetto Adesso Bisogna trovare Le risorse Per Per far l'opera Insieme Ripeto Con quello che È la nostra Azienda di servizi Passiamo al tema Degli asfalti E mi rilaccio Anche alla domanda Della telespettatrice Sì una donna Quindi le chiedo Intanto quali sono Gli interventi Che avete fatto Quelli che farete Lei chiede La Flaminia Dalla curva di Wilson Fino a piazza delle Corriere Avrà prima o poi Un asfalto decente Ora in bici È impossibile Stare in sella Ha perfettamente ragione La signora Adesso senza soffermarsi Su quelli che abbiamo fatto È importante ancora Sapere quelli che dobbiamo fare Secondo me Questo ahimè Quello che dice La nostra concittadina È vero È un tratto provinciale Col quale ci confrontiamo Giornalmente Non dico Se forse esagero Giornalmente Ma sicuramente Settimanalmente E invitandolo A ripristinare Questo tratto Che non è l'unico Ahimè Ma che comunque È tra quelli più Urgenti da fare Ripeto È un'opera È un'opera Che deve fare la provincia Essendo di sua competenza La strada Ok Invece Anche i rifiuti Porta a porta Insomma Contro il degrado Delle isole ecologiche Anche per i prossimi Sei mesi Avete rinnovato Questa possibilità Di mantenere Le telecamere Su determinate isole Per cercare di Trovare E scovare i furbetti I furbetti dei rifiuti Quelli che purtroppo Lasciano abbandonati Sacchetti Dell'immondizia O altro Sicuramente Il nostro intento Non è andare a caccia Dei furbetti Anche se abbiamo L'obbligo Di guardarli Ma non è che Sia questa Diciamo L'unico obiettivo Che abbiamo L'obiettivo vero È di dare E di riqualificare Queste isole Stiamo facendo Proprio uno studio Su questo Insieme con Aset Per Per riqualificare Capire E rimodernare Quello che è Questo tipo di servizio Cercando di Non solo di ottimizzare Nei punti strategici Ma soprattutto In qualche maniera Di renderli Più decorosi E Meno sgradevoli Nel vederli Beh certo Però colpendo i furbetti Si può Contribuire A mantenerli puliti Se lei mi parla di decoro Sì Diciamo che Stiamo puntando a fare Una A fare dei cassonetti Che in qualche maniera Necessitano di Abilitazione Specifica Per le persone Che risiedono Nel territorio Di competenza Andiamo in via Le martiri Della resistenza Anche qui C'è stato un intervento Possiamo dire Che è stato rinnovato Altro taglio del nastro Vediamo in questo momento Le immagini E quindi L'intervento Che è stato richiesto Solo per la strada È di 300 mila euro Però C'è stato Un intervento Pure della BCC Del metauro Assolutamente sì Noi abbiamo fatto Ovviamente Il nostro intervento Non si tratta Soltanto Del viale In sé per sé Ma anche Dei sottoservizi Che abbiamo dovuto fare Obbligatoriamente Altrimenti Altrimenti Ogni volta Che questa zona S'alluvionava Bastava che piovesse Veramente poco E quindi abbiamo fatto Tutta una serie Di fognature Soprattutto Abbiamo fatto Una pavimentazione nuova E grazie alla BCC Che ci ha dato Un contributo importante Abbiamo provveduto Subito Alla ripiantumazione Che era necessaria Proprio per Lo stato di Degrado In cui si trovava Si trovava Questa parte Importante Al centro Della nostra Della nostra città Quindi Ritengo Che Durante l'estate Sia Un'opera compiuta Comprese le opere Dello scultore Bianchi Assolutamente Sì C'è Già Stato individuato Anche il restauratore In questi giorni So che Lavoravano Su questo tema Per restaurare La fontana Ripristinarla Come abbiamo Già fatto Quella In un'altra parte Di Fossombrone Ci fermiamo Sindaco Per qualche istante In pubblicità E poi torniamo in diretta Tra poco Siamo tornati in diretta Con il sindaco Di Fossombrone Le chiedono All'incrocio Del bocciodromo Ci vorrebbe Una rotonda Avete in mente Qualcosa? Non so se si riferisce Al punto preciso Che intendo Però sicuramente Si verrà una rotonda Alla fine Del parcheggio Per 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 Un'area Che è veramente Oggi è disastrata Sinceramente Non è solo una questione Di rotonda Ma tutta l'aria Che può Tutta la strada Che poi percorre A fianco del campo Sportivo Dove alla fine Ci sarà una seconda Rotonda Praticamente Verrà Da qui A A un anno Sicuramente fatto l'intervento che, ripeto, prevede l'allargamento della sede stradale con le due rotonde, una sulla strada Vecchia Flaminia e una sull'incroce di Via Entreg. Cambiamo argomento e passiamo al cimitero di Montalto Tarugo perché sono stati finanziati in nuovi loculi, anche lì avete cercato di combattere il degrado. Sì, ma questo credo che sia un impegno che ogni amministrazione deve avere. Abbiamo sistemato, credo, diversi cimiteri. Oggi Fossombrone ha sia una grande estensione, ha anche un numero importante di cimiteri. Quindi ovviamente questo è il nostro compito, lo faremo a breve, anche questo per dare un decoro minimo che serve a un posto così importante. Sindaco, le chiedono, ritornerà come gli anni passati il Carnevale con i carri che sfilano lungo il corso? Ma guardi, questo non è un mio compito, si occupa la proloco di questo. Io do l'appoggio per qualsiasi evento che possa in qualche maniera rendere piacevole alla nostra comunità alcuni momenti, però dipende da loro, dipende dagli impegni che hanno. Però io vedo di buon occhio che è il supporto. Speriamo di sì, anche perché è molto sentito dalla città questo evento. Spero assolutamente sì. D'altra parte abbiamo un fano che fa da luce per questo momento. Quindi anche Fossumbrone nel piccolo vorrebbe rinfesteggiare a suo modo quello che è il Carnevale. Attendiamo che è il trionfo del Carnevale. Il trionfo del Carnevale è un valore storico. Sul trionfo del Carnevale ovviamente giochiamo in casa, abbiamo una delle ricorrenze più belle che c'è secondo me nel nostro territorio. Quest'anno peraltro è un anno importante perché abbiamo chiesto e ottenuto che la settimana noi riservata di Pesaro 2024 come capitale della cultura la settimana dedicata a ogni comune sia proprio la settimana del Carnevale. Quindi per noi è un anno particolare dove dobbiamo fare bella figura e dove sono convinto che chi si occupa ha già preso nella dovuta considerazione quello che sia necessario proprio per l'evento straordinario dal quale il prossimo anno a maggio ci aspetta e dal quale dobbiamo uscirne fuori con una bellissima figura. A proposito di storicità, è corretto che alcuni documenti dal 1500 circa verranno digitalizzati quindi staranno alla portata di clic anche per tutta la cittadinanza? Sì, guardi le confesso che prima di vederli ovviamente non davo nemmeno io non sapevo quale importanza il comune di Fossombrone avesse a disposizione guardandoli veramente uno ha rispetto nel toccarli non vuole nemmeno avvicinarsi con la paura di rovinarli quindi quantomeno portarli a conoscenza e poterci permettere di portare a conoscenza a chi sono i proprietari che sono i nostri cittadini di tale bene credo che sia un atto che è dovuto e credo che sia molto molto bello che riportare a conoscenza di quanto valore abbiamo. Andiamo sulle cesane sindaco perché sin dal vostro insediamento avete iniziato un percorso per acquistare la baita dovremmo avere anche in questo caso delle immagini che riguardano i trekking insomma sappiamo che ci sono tantissime persone che frequentano le cesane e pensate anche alla realizzazione del sentiero per tutti poi anche alla sistemazione della parte iniziale del sentiero 337 quindi un bel lavoro da fare. Credo che chi abbia avuto modo di vedere le cesane ha capito che patrimonio abbiamo e che valore abbiamo i tre comuni che detengono questo patrimonio sono il comune di Fossombrone, il comune di Urbino e il comune di Sant'Ippolito la regione ha bandito un'asta un po' di tempo fa credo un anno fa su quello che è una zona bellissima che è quello della baita ho pensato e ho condiviso con i tre sindaci che hanno accettato la volontà e ci siamo riusciti ad acquistarlo tutti e tre insieme questo scorcio di foresta de Magnale che è probabilmente una delle cose più belle della nostra introterra quindi rivalorizzarla e cercare con questo di dare un ordine a quelle che sono poi tutti questi sentieri è una logica con tutti questi sentieri nel rispetto proprio delle cesane stesse dove all'interno di questa baita vorrei tanto che ci sia anche un ufficio che rappresenta i tre comuni che rappresenta l'unità dei tre comuni e come gestire al meglio un patrimonio così importante che sono le cesane quindi doppio significato quello di essere all'interno di una foresta che ci sia una struttura che sia proprietà di tutti e tre i comuni dove si fanno economia dove si fa logica dove si fa strategia come gestire al meglio una bellezza di tale portata Un telespettatore chiede se state lavorando l'ufficio Europa questa sinergia anche con gli altri comuni potrebbe rientrare anche nel discorso di questo ufficio proprio per cercare di intercettare più risorse possibili? Ma guardi questo è un progetto che ci sono stato io in particolar modo dietro per cercare di trovare tutte le connessioni possibili con i comuni limitrofi posso garantire che siamo veramente agli sgoccioli da qui a qualche mese partirà questo ufficio Europa che non è soltanto un ufficio che deve vedere mirare a quelli che possono essere i contributi cosa importante ma anche un ufficio dove si discutono sinergie comuni con i paesi vicini perché credo che sia un passaggio dal quale non possiamo esimerci nel cercare di ottimizzare valorizzare tutte le energie a disposizione per avere il miglior servizio per i nostri cittadini quindi una condivisione credo che sia obbligatoria sia obbligatorio averla diciamo un ufficio dove c'è un tavolo dove ci siedono anche i vari componenti che possono essere i sindaci ma anche gli stessi capi ufficio i responsabili d'ufficio dove mettere a fuoco un tema per strategie condivise per ottimizzare tutto quello che abbiamo e cercare di non disperdere nessuna energia in merito invece per le strutture museali c'è stata una convenzione con l'Auser sì abbiamo chiesto l'Auser un supporto per tenere aperto anche la domenica mattina i nostri musei abbiamo raggiunto ma che poi c'è stato poco da lavorare perché l'Auser in questo caso ha detto sì va bene presenti ci siamo quindi anche questo il fatto stesso di unire diverse energie per dare il miglior risalto alla nostra comunità è un altro intento di questa amministrazione le chiedono il centro di raccolta che fine ha fatto? il centro di raccolta stamattina abbiamo ritirato il progetto il progetto che prossima settimana lo presentiamo alla regione e lo sottoponiamo ovviamente a tutto l'iter che deve avere però siamo pronti e stiamo andando avanti mi dicono dalla regione che ci stiamo quasi siamo quasi al termine di questa puntata però vorrei chiedere visto che i suoi concittadini non dovranno tornare alle urne a maggio-giugno perché Fossombrone non rientra appunto nei comuni coinvolti dalle elezioni amministrative quali sono secondo lei oltre all'Ufficio Europa quello di cui abbiamo parlato prima anche le scuole eccetera gli obiettivi più importanti su che cosa vi concentrerete almeno nei prossimi mesi? guardi gli obiettivi più importanti non ho alcun dubbio che è verso i giovani verso verso le persone che hanno difficoltà dico sempre che una comunità il valore della comunità si misura anche da quanta distanza c'è tra i primi e gli ultimi il valore della comunità è proprio quello di sentirci in qualche maniera protetti pensando in primis anche ai giovani che rappresentano il nostro futuro e ai quali però bisogna dare delle risposte non si possono non si può pensare che ce li abbiamo ma che hanno bisogno anche loro delle loro esigenze quindi i due valori principali sono questi cercando di fare delle opere che siano propedeutiche proprio questo sia propedeutiche anche a immaginare come i nostri giovani vivranno nel prossimo futuro nella nostra comunità il fatto di contrastare quello che è lo spopolamento dei nostri comuni che riguarda un po' tutti è proprio dare una risposta di benessere di piacevolezza di dire perché dovevo andare via da Fossombrone anzi è un buon motivo per tornarci e starci bene grazie sindaco per essere stato con noi grazie ancora al sindaco di Fossombrone Massimo Berloni un ringraziamento anche alla regia di Riccardo Sora e a Cristiana Guerra che appunto lavora nel Dietro le Quinte noi ci vediamo alle 20.30 con il nostro telegiornale tra poco